Lui è tutto piccolino, Pavel Rappolashiii! Lo dobbiamo incassare anche lui! Peter Rappinarica! Madame e Messieurs, attenzione perché giù la cuore... Le doi Rappolashii! Lui invece è un altro di quelli che vedrete sicuramente tra un po' su Sky e sui vari campionati del mondo perché sta crescendo veramente forte Lai c'è in giro, Pavel Rappolashiii! Invece lui, ed è su tutti i canali numero uno al mondo! Rossale Energy Britta! Pissi! Raising gentleman! World Shepard! Ritor! Pavel Rappolashii! Pessi! 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 ragazzi mi ricordo dove c'è ecco c'è un po' il sonno ragazzi e noi facciamo sentare a tre per una volta come un zappalber non lasci capaci anche in quattro e cinquanta Vuoi saltare tu? Ma che sta arrivando Pavec! Uno è più domani di tutti! Mi deve sentire! Vadaionessi! Cos'angelo? Questo! Arriva con il secondo Stalco, la battecchia in 4.50, ne ho buoni, Wippa! Ragazzi però non ci sentiamo. Ragazzi mettiamo di un forte applauso! Lui francese, 25 anni, accogliamolo con un po' di applauso! La resistenza è tutto anche con la pericamera sul casco, si vuole portare anche lui un pezzo di grossa minarda in Francia! E' un'amagina! Lui di scuola, lui arriva dalla scuola, domani Remi, domani Romanna, anche lui emergente, sono quelli che cresceranno moltissimo negli anni. Arriba con il primo Stalco! Vado! 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 Buonissimo! Arribazovicca suvato! Lascia la lenta! Buonio! Plisake! La vistenza! Alla fine! Vieni! 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 anche lui è giovanissimo, Repubblica cieca, aggogliamolo con un forte applauso, Peter Mineric, è il rete 2.50 anche per lui, tutte Suzuki, Suzuki is good model for free Grazie La vicente! Arriva con il secondo stanzo! Muori! Lio Cordoba! Ragazzi vi ricordo che il ventosco Inesistente e il ventosco C'è anche il raduno E il Vespa Crevi e Ciglia con Nicola l'impegnatore Per questo stanzo Il Vespa Crevi e Ciglia con Nicola E' colorata! A Mirama Moranelli fanno la mosca bianca Sì, adiamo il sole e si fa colorata A te voglio un grande applauso! E' camminata! Ragazzi ci siete? Cominciamo a fare la parte forte? Ma ti sento! Ma ti sento! Ragazzi non dovete spingere sulle transgene per lucere Sta venendo a massimo tutto Ma stai con me ne vengono tutto quanto? Siete pronti? Adesso comincia... Inesistente da Termini di Vifere Ok! Tomas Listace, we go! Ragazzi questa chitarra è famosissima E quando comincia, voi vedere che è veramente grossa minarda che deve esplodere. Yes! Voglio mettere le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Come sono le mani? Grazie!